Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a trattare della nuova modalità chiamata gioco delle armi da poco introdotta su Call of Duty Ghost che era anche in precedenza presente su Black Ops 2 questa modalità mi ha fatto sclerare veramente tanto sullo scorso gioco e ora andremo a vedere che cosa succederà c'è una pistoletta col fiume di bocca no 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 vabbè dalla prima l'abbiamo presa no ma vaffanculo, cioè al primo c'avevo 8 e sono ancora 1 ma io ma vaffanculo st'arma di merda no, non l'ho certo che cazzo si è le schifosi vieni te qua vieni i bastardi non c'è nessuno che cazzo è la gente? che operano tutti su sta modalità di merda ma è scandaloso ciò che cazzo oh mio dio che culo di merda vaffanculo eccoci qua su Tremor la mappa dei terremotati ok si parte con la Kibo questa volta vieni qua vieni vieni lurido fellone 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 di merda armi del cazzo non servono a niente fanno il culo sullo gioco delle armi armi del cazzo sali su sta cazzo di scala vaffanculo vaffanculo sto pistone di merda di merda di merda delle armi di merda su una mappa di merda non è possibile non è concepibile una cosa del genere che cazzo è che mi spa il camper di turno il mio amico gira che cazzo ho uncastrato nel muro che cazzo è per il culo con un bel di merda quello salta per aria cioè dai vieni che fuori che cazzo che cazzo no no ma che cazzo è successo scusatemi e lagga porca cioè lui mi accutella perché lagga ma non è giusto vaffanculo si spera che questa vada meglio delle altre ok non c'è il freno di bocca e quindi ve lo lasceremo mettere in culo cos'è sto lag mamma mia che lag del cazzo ho tirato giù una laggata non laggare vaffanculo basta laggare non ti coglioni dai raga si fa vincere ma no no non puoi che cosa è successo è graciato oh non c'è più la barca è finita la barca oh che cazzo che cazzo oh l'ho ucciso è totalmente scandaloso ok rieccoci su questa mappa ok mi sa già laggare perfetto lagga pure il controllo dove c'ha ma c'ha la va 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 cavaglia eppure destro un c'è di merda vaffanculo guarda l'acqua se sto coso mi fa schifo ma tanto anche tipo coso silenziato strano non spara niente spara puffi spara ah è quel punto che ecco come si chiama sto coso non muore nessuno con sto coso corri si 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 è qua girati si si giucciame lo stronzo si si vaffanculo vaffanzo si stronzo si si l'ultima partita si stronzo vaffanculo questa modalità diciamo mi fa sclerare molto non mi piace cioè mi piaceva più quella su black ops 2 perché cioè le armi erano quelle lì te sapevi già l'arma che ti saresti trovato in mano quindi devi dire possibilità di essere più preparato verso gli altri giocatori i venti qua vanno assolutamente a caso devi solo avere culo di trovare la gente che è girata di spalle e anche col coltello il fatto che ci sia come arma finale il coltello non ha fortunatamente senso almeno su black ops 2 non so ho detto che si è baggata la partita su black ops 2 almeno dovevi avere un minimo di bravura con il coltellino balistico se facevi gagare col coltellino balistico non potevi neanche accoltellare perché non mica vincevi la parola invece qua devi accoltellare quindi devi solo avere culo di trovare la gente girata e fu così che cresciò ciao 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 ciao